Ciao ciao a tutti! Allora ieri qui era giorno di mercato e io sono andata alla solita bancarella dove ho acquistato anche tutti quei vestitini, copri costumi che vi ho mostrato in un altro video e ho trovato delle bluse, dei top, delle canote e altro che erano prezzi davvero erano lì che mi dicevano prendimi, prendimi e portami a casa, io come un'automa, no no come un'automa erano cose carine che comunque mi servivano così ho eliminato vecchie bluse che avevo da anni che ormai insomma non sono più portabili in giro e ho comprato queste cosine che adesso vi mostro Allora, ho comprato a 6 euro queste canote, sono due uguali, una di questo colore, questo colore grigio con una trama anche sulle cru, con la semi a bottonatura davanti, le tasche tutte sberluccicanti eccole qui e dietro hanno questo pizzo sempre un po' sberluccicante 6 euro, sono di cotone, cotone garzato, io compro possibilmente solo cose in cotone che almeno sono traspiranti specialmente d'estate, è una manna Allora, questa di questo colore e l'altra uguale però un'ecru, un'ecru che è portabile su qualsiasi altra, su qualsiasi cosa, su qualsiasi altro colore sono abbastanza lunghe, col fondo stondato, trovo davvero molto molto carine indosso stanno bene perché cadono abbastanza morbidamente, coprono i vari rotolini e sono contentissima anche perché 6 euro, puro cotone, praticamente le ho pagate il 50% poi sempre una canota, sempre in cotone, questa è più lunga, l'ho presa lunga per portarla sopra i leggings corti ed è blu, molto semplice ha questo bordo tipo uncinetto qui al fondo e anche qui sul retro questo bordo che sembra l'uncinetto cotone, questa l'ho pagata 6 euro anche questa sì sì, 6 euro, carinissima anche questa, anche questa cade molto chuan chuan, così copre poi ho preso invece questa blusa con le maniche corte sempre cotone garzato che io amo perché è leggerissima è veramente una nuvola, è come il tulle diciamo solo che è cotone ed è fatta così, questa l'ho pagata 10 euro 10 euro, leggerissima anche questa con questa specie di ricamo a rose qua sul davanti molto carina anche questa qui sotto questa fascia, mentre dietro invece è liscia, completamente liscia leggerissima, su un pantalone nero o blu, anche su una gonna io amo tanto le gonnellone lunghe fino ai piedi quando non indosso vestitini perché sapete che per me il cavallo di battaglia è l'estate l'abitino che è indossato e sei vestita immediatamente oppure uso appunto queste bluse e canotte molto morbide su gonnellone lunghe con gli infradito, i miei dorati infradito bassi e questa è così e poi l'ultima invece questa è puro lino anche questa non potevo lasciarlo lì a quel prezzo a 12 euro 100% lino ed è questa casacca lunga con questo disegno fiorato vedete blu, fiori blu su fondo bianco molto semplice con un accenno appena appena di manichina il bottoncino sul retro e questo appunto vediamo se l'ho lasciato se c'era l'etichettina dov'è dov'è, 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 dov'è eccola qui e questa vedete prodotto in Italia 100% lino vedete 100% lino prodotto in Italia 12 euro puro lino era veramente un'occasione questa, anche questa l'ho presa abbastanza lunga da mettere sopra i leggings a pinocchietto blu o bianchi e questi sono i miei piccoli acquisti al mercato di paese grazie per avermi guardato anche questa volta vi saluto tutti con un abbraccio un sorriso e al prossimo video ciao ciao